Un applauso alla conferenza indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa accoglie il rientro in Italia di Mauro Donato, il fotoreporter torinese detenuto dal 16 marzo in carcere in Serbia. Donato era nel paese insieme al collega Andrea Vignali per documentare la vita dei profughi e le attività degli operatori umanitari lungo la Balkan Route. Ieri mentre si diffondeva l'ennesimo appello per la sua liberazione, Donato è stato scarcerato dopo 21 giorni passati in prigione con l'accusa di aver rapinato tre profughi afghani, anche se proprio loro e il collega lo avevano scagionato. L'azione di sensibilizzazione dell'autorità serbe condotta dall'ambasciata e dal Ministero degli Esteri, fa sapere la Farnesina, ha consentito il rilascio di Donato. Stanco ed emozionato, Donato ringrazia chi gli è stato vicino, non sapevo perché ero detenuto, è stata un'esperienza durissima, aggiunge che spero di non rivivere mai più. Io avevo dei verbali in cirillico, i miei verbali sono stati tutti scritti in cirillico e mi è stato chiesto di firmare dei verbali in cirillico. Vi assicuro che firmare un verbale in cirillico senza sapere qual è il tuo capo di imputazione e soprattutto quali sono le cose che ti vengono contestate è difficile da accettare e soprattutto da metabolizzare. Ringraziamo voi, dice il Presidente della FNSI Giulietti e i due colleghi e tutti i giornalisti che come voi amano la libertà e per questo partono per illuminare realtà oscurate. Oggi siamo qui per festeggiare il vostro ritorno, aggiunge, ma anche per ribadire che saremo sempre al fianco di chi si mette in gioco e spesso rischia per svolgere il dovere di informare.